Il presidente del Consiglio regionale della Basilicata, Carmine Cicala, ha ricevuto stamane in visita di cortesia il nuovo comandante regionale della Guardia di Finanza, il generale Gaetano Scazzeri. Durante l'incontro, più volte ribadita la necessità di un approccio sinergico tra istituzioni su un tema così delicato e importante quale è quello della legalità. In termini di legalità noi come istituzione Guardia di Finanza siamo chiaramente pronti e disponibili a fornire ogni collaborazione, anche ascoltando soprattutto quelle che sono le iniziative del Consiglio, molto interessanti, iniziative sulle quali se ci viene chiesta collaborazione noi la forniremo assolutamente, sia in termini di legalità, appunto come diceva lei, sia in termini di attuazione delle disposizioni regionali o in termini di nuove idee, nuove proposte che possono originare da parte anche degli operatori di polizia che hanno una visione diversa e autonoma di quelle che sono le realtà regionali e nazionali in generale. Nel dare il benvenuto a nome di tutto il Consiglio regionale al generale, il presidente Cicala ha sottolineato quanto sia importante un percorso comune che veda lavorare insieme le istituzioni con il prezioso coinvolgimento dei giovani lucani che devono essere insieme agli enti proposti i principali messaggeri dei temi della legalità. Abbiamo discusso proprio di questi temi, un focus particolare, specifico sui giovani, sul nostro ruolo, su quello che anche loro devono, in che modo affrontare questo momento storico difficile per tutti quanti. Quindi un focus sulla legalità non poteva mancare, su quella che è l'emergenza sanitaria del momento storico e quindi l'augurio di poter intraprendere insieme numerose iniziative e portare avanti quelle già avviate con il suo predecessore. Quindi l'augurio di vero cuore, un benvenuto speciale in una terra come la quale la Basilicata accogliente e sempre pronta a mettersi in discussione nell'interesse dei cittadini del territorio tutto lucano. Grazie a tutti.